Dallo stadio comunale di San Ferdinando di Puglia, oggi si è disputato il secondo turno di Coppa Italia d'eccellenza tra Manfredonia e San Severo. Manfredonia che manda in campo il solido tridente composto da Morra, Trigiani e Potenza. Ruffini invece manda in campo il tridente Sicla, Ritrotta e Canarozzi. Arbitra il direttore di gara, Rosiello, con gli assistenti Dessena e Daniello, tutti della sezione di Molfetta. Inizia subito forte il Manfredonia con il pallone messo in area di rigore per Gian Buzzi che riesce a trovare la rete, ma l'assistente alza la bandierina, nulla di fatto, si resta sullo 0-0. Non passano neanche 4 minuti e i Sipontini questa volta trovano il gol del vantaggio con una splendida incursione da parte di Potenza che si autolancia in porta con un gran controllo di tacco, chiude sul primo palo, nulla da fare per Leuci, 1-0 per il Manfredonia. Dopo un inizio complicato si fanno vedere in avanti anche gli uomini di Ruffini che con un gran calcio d'angolo battuto da Trotta colpiscono il palo con Canarozzi, tanto spavento per la difesa della Manfredonia che viene graziata dal legno, Manfredonia che comunque ha il controllo della partita e di fatti su una ripartenza al 29esimo un gran filtrante di Fiorentino trova a innescare lo scatto di Trigiani che calcia, bravo Leuci, ad opporsi ancora una volta. E non ci sono state altre occasioni nella prima frazione con le due scuole che tornano negli spogliatoi dopo un bel primo tempo. Nella ripresa ritorna a farsi vedere in avanti il Sansevero, va a Trotta ma prende in pieno la barriera, non riesce a sfruttare la dovere e al tredicesimo torna in avanti il Manfredonia con una ripartenza di Trigiani che a tu per tu con Leuci si fa ipnotizzare con una gran parata da parte del portiere del Sansevero. Partita che comunque si è giocata tantissimo a centrocampo con nessuna occasione per gli uomini di Ruffini e De Candia. Infatti per tornare a vedere un'occasione da gol dobbiamo attendere il 41esimo minuto di gioco quando Morra con una conclusione al volo trova la respinta di Leuci che si fa malissimo alla mano colpendo il pallone con la mano aperta e l'estremo difensore lascia il campo, al suo posto Carella lo sostituisce. Ed è al terzo minuto di gioco di recupero quando praticamente il Sansevero aveva portato tutti gli effettivi in avanti per cercare di pareggiarla, riparte il Manfredonia che trova il raddoppio su una ripartenza di Morra che mette al centro, sfortunato Stoppiello che si butta il pallone in porta, autogol e 2-0 finisce. 2-0 per il Manfredonia, l'andata di Coppa Italia ad eccellenza per gli uomini di Ruffini. Ci vorrà un'impresa, una gara perfetta al ritorno per poterla ribaltare.